ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina oggi voglio preparare la focaccia con patate rosmarino gli ingredienti che ci occorreranno per l'impasto sono 250 grammi di farina manitoba 250 grammi di farina doppio zero 40 ml di olio extravergine di oliva 15 grammi di sale 300 ml di acqua tiepida e 10 grammi di lievito di birra fresco all'interno di una ciotolina vado ad inserire un pochino di acqua presa dal totale e andiamo a sciogliere il lievito all'interno dopo averlo sciolto lo mettiamo da parte prendiamo una ciotola e andiamo ad inserire le due farine quindi farina doppio zero e farina manitoba mescoliamo in modo da ossigenare le due farine ovviamente io sto impastando a mano ma voi potete impastare con la planetaria utilizzando il gancio apriamo un buco al centro e andiamo ad inserire l'acqua con il lievito sciolto iniziamo a impastare e aggiungiamo la restante acqua poco per volta prima di inserire l'ultima parte di acqua nella stessa andiamo ad inserire il sale e lo facciamo sciogliere poi lo inseriamo all'interno e mescoliamo e formiamo un panetto non ovviamente ingordato perché per ultimo dovremo aggiungere l'olio quindi vi faccio vedere questo è quello che dobbiamo ottenere vedete adesso andremo ad aggiungere l'olio in due riprese facciamo assorbire la prima parte dopodiché aggiungeremo la seconda parte la stessa cosa dovete fare se utilizzate la planetaria aggiungiamo una prima parte vedete lo lavoriamo ancora un pochino e poi aggiungiamo la seconda parte metto la seconda parte e adesso lo lavoro fino a quando non ottengo un panetto liscio e omogeneo dopo aver impastato e ottenuto questo risultato copriamo la ciotola con il coperchio e facciamo riposare per 15 20 minuti dopodiché diamo delle pieghe sono trascorsi 20 minuti riprendiamo l'impasto e andiamo a dare delle pieghe io per farvelo vedere lo metto sul tavolo quindi prendiamo l'impasto e diamo delle pieghe in questo modo così facciamo una piccola pirlatura guardate l'impasto che bello liscio davvero spettacolare e adesso rimetto la ciotola così coperta questa volta e attendiamo altri 20 minuti altri 15 20 minuti facciamo la stessa cosa e dopodiché mettiamo all'interno della ciotola copriamo con pellicola trasparente riponiamo all'interno del forno spento con la luce accesa e lo facciamo lievitare fino al raddoppio ci vorranno circa due orette trascorsi 20 minuti andiamo a fare le ultime pieghe quindi partiamo da sotto in questo modo e facciamole mamma mia è bellissimo questo impasto e considerate che ha un'idratazione del 60% ok ci sono anche già delle piccole bollicine come potete ben vedere riponiamo all'interno della ciotola così e copriamo con la pellicola trasparente all'interno del forno spento con la luce accesa fino al raddoppio nel frattempo che l'impasto raddoppi ci occupiamo delle patate ci serviranno 400 grammi di patate andiamo a sbucciare quindi prendiamo un tagliere e andiamo a tagliare vedete? devono essere così, sottili li mettiamo all'interno di una ciotola con dell'acqua fredda per evitare che si anneriscono dopo averli tagliati tutti li laviamo sotto acqua corrente acqua fredda e li lasciamo poi in ammollo fino a quando non ci serviranno per la farcitura non ci serviranno solamente le patate ma ci servirà anche olio extravergine d'oliva all'interno di un pentolino vado a pesarne 50 ml quindi ho messo 50 ml di olio all'interno del pentolino e vado ad inserire all'interno il rosmarino porto sul fuoco faccio arrivare all'ebollizione dopo di che spengo metto due rametti all'interno quindi ho acceso la fiamma e adesso porto ad ebollizione bene, faccio stare per qualche secondo ancora e dopo di che spengo e lascio in infusione trascorse quasi due ore come potete ben vedere l'impasto è raddoppiato adesso lo mettiamo per un secondo da parte prendiamo una teglia 30x40 e all'interno andiamo a spennellare un po' di olio extravergine d'oliva quindi metto l'olio extravergine d'oliva e vado a spennellare tutta la teglia prendo l'imbasto e lo vado a capovolgere all'interno l'impasto scenderà da solo ci ungiamo le mani con l'olio e andiamo a stendere lo andiamo a stendere per bene se vedete che l'impasto si ritira troppo e quindi non riuscite a stenderlo attendete 10 minuti e poi finite di sistemarlo all'interno della teglia adesso dobbiamo preparare le patate quindi dopo averle lavate lasciate in ammollo li prendiamo, li mettiamo sopra il nostro finaccio e li asciughiamo per bene e vado ad inserire l'olio che avevamo messo in infusione con il rosmarino l'olio non lo metto tutto me ne lascio un pochino ok do una mescolata metto il sale mescolo per bene e metto la parte adesso con le dita andiamo a formare i soliti buchetti che troviamo nelle focacce così andiamo a mettere l'olio che era rimasto lo distribuiamo per bene sulla superficie in questo modo e adesso andiamo a sistemare le patate dopo aver sistemato per bene le patate andiamo a mettere un po' di rosmarino sopra prima di andarla ad invornare la faccio lievitare per 30-40 minuti trascorsi i 30 minuti vado ad invornare a 200 gradi forno ventilato statico va bene per 20 minuti circa trascorsi i 20 minuti ecco come si presenta l'ho tirata fuori dal forno adesso la lascio indiepidire dopodichè la tiro fuori dalla teglia la focaccia si è indiepidita è arrivato il momento di andarla a tagliare guardate sofficissima parte croccante del cornicione e parte morbidosa all'interno la mia focaccia con patate e rosmarino è pronta adesso tocca a voi replicare la mia ricetta fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate grazie grazie grazie